Buongiorno amici dal boss delle moto e dal grande DAWR ragazzi bentornati Davide bentornato a tutti i nostri amici di youtube allora Davide oggi giornata di ninfio blog abbiamo ritirato ieri io personalmente a Crotone questa fantastica KTM 890 Duke è una 2022 con soli 1000 km con track pack scarico MIV un vero gioiellino KTM continua dopo il successo commerciale della 790 qua siamo cresciuti di poca cilindrata 10 cavalli importanti l'hanno resa perfetta l'hanno resa perfetta ed ora una vera competitor lo era già prima del competitor remetti 0.9 9, monster 937, tryon diciamo il segmento più ricco e più richiesto la media cilindrata moto divertentissima da guidare e soprattutto gestibile perché a me questo è quello che piace di queste medie cilindrate ti diverti, tanti cavalli e soprattutto sono gestibili, li riesci a sfruttare giusto? un dato non da sottovalutare consuma pochissimo è una delle medie che consuma meno di tutte questo è una cosa nonostante sia prestazionalmente parlando molto efficace perfetto, a mio giudizio dopo BMW e Ducati KTM insomma raggiunge il podio di moto più belle e più prestazionale è una mia soggettiva considerazione me la tengo per me quindi da VR io so che il visore ti aspetto io sto scalpitando perché devo andare a... io vi ricordo a tutti di iscriversi al canale Ninfio Motori attivate la campanella ma attivate anche su TikTok del Boss Telemotor ragazzi su tutti i social su tutti i social Instagram, TikTok, Facebook è un pazzo il nostro sito ninfiamotori.com che è aggiornato quotidianamente dal Boss Telemotor vi mando un grande bacio ciao ragazzi buon Ninfio Testi, ciao! buon Ninfio Testi, ciao! buon Ninfio Testi, ciao buon Ninfio Testi, ciao! di questo KTM Duke 890 prima di andare in selle e raccontarvi quali sono le sensazioni mentre la guidiamo parliamo un pochino dei dati tecnici, dati su carta una motocicletta sicuramente tra le più vendute, tra le più presenti per strada un vero successo di casa KTM partiamo dal motore motore che sale leggermente di categoria rispetto alla versione precedente Duke 790 115 CV a 9000 giri, una coppia massima di 92 Nm a 8000 giri, un motore che in realtà sulla carta sembrerebbe tirare in alto ma ragazzi è pieno a qualsiasi parte del contagio, veramente un motore spettacolare passiamo poi alla ciclistica, quindi parliamo di sospensioni e freni all'anteriore forcella VP da 43 mm purtroppo non regolabile mentre abbiamo un impianto frenante targato KTM radiale che appoggia su due dischi da 300 mm frena benissimo passando invece al posteriore troviamo anche qui un componente VP un mono ammortizzatore regolabile solo in precarico un impianto frenante invece che poggia su un monodisco da 240 mm anche qui impianto frenante targato KTM parliamo invece del pacchetto elettronico oggi noi siamo fortunati perché questo 890 che abbiamo a disposizione è dotato del Tech Pack che si paga a parte non costa nemmeno pochissimo, 750 è il costo di questo Tech Pack che comprende il Track Pack quindi tutto ciò che deriva dalla pista compreso di mappatura motore mentre il Tech Pack comprende anche quick shifter in scalata e in salita e soprattutto un sistema molto interessante chiamato MSR non fa altro che in situazioni di forti scalate andare a intervenire sul corpo farfallato perché l'acceleratore è elettronico e quindi non causa quel rinculo, chiamiamolo così, quando scaliamo in maniera troppo potente serbatoio molto particolare, molto prorompente con queste linee capacità del serbatoio 14 litri scarico molto carino peso a secco di questa moto 169 kg direi che abbiamo detto tutto dobbiamo passare alla guida perché io sto scalpitando ed eccoci qui ragazzi alla guida di questo 890 Duke inutile dirvi che avendo il Tech Pack e quindi a disposizione anche il Track Pack la stiamo guidando ovviamente in modalità Track perché dobbiamo testare effettivamente nelle massime prestazioni anche se non è indicata diciamo per la strada perché la moto risulta parecchio più reattiva del normale mamma mia che bello il Vesuio io lo amo abbiamo anche il controllo di impennata off ovviamente come qualsiasi mappa Track che si rispetti partiamo dal comfort alla guida, comfort al top siamo completamente ranicchiati sulla moto, bellissimo abbiamo un contatto col manubrio estremo ragazzi veramente siamo molto molto vicini pedale il giusto per quanto riguarda la guida sportiva se volessi essere un pochino più comodo quindi magari per una lunga percorrenza forse sono un po' troppo arretrate non so se sono arretrate loro o se siamo noi troppo in una posizione sportiva però è un dato molto poco rilevante ragazzi perché la moto risulta comunque molto comoda quindi lato comfort promossa a pieni voti oh qui mamma mia ragazzi che motore questo diucco 890 mamma mia il blip è riscata funziona da dio parliamo di questo motore un motore che come ho detto tira tutti i giri ragazzi è pienissimo un motore fluido che anche mappa Track comunque riesce a essere sfruttato qua Traction interviene un pochino entriamo qui destra su una ruota usciamo entriamo in curva mamma mia ragazzi che moto un motore che forse è la cosa più bella di questa moto ragazzi pienissimo fluido non da problemi dovete stare attenti perché la moto è sempre su una ruota e quando poi atterriamo la sentiamo un pochino rigida perché se parliamo invece di sospensione una moto che sta veramente bene la moto risulta molto molto agile le sospensioni seppur non regolabili soprattutto all'anteriore lavorano bene la moto ragazzi è una lama ho provato anche l'890R quella è veramente rifinita ancora meglio ma già qui ragazzi non ci possiamo unicamente lamentare lui intanto è al centro della corsia va bene devo dire la verità se io fossi un cliente KTM non sarei felice di pagare a parte cose come il cambio elettronico perché oggi soprattutto è diventato abbastanza standard su tutti i modelli di moto di un certo tipo ricordiamoci anche che questa moto parte da un prezzo base di 11.500 euro quindi non sono proprio pochi spicci avendo il track pack questa moto è dotata anche di launch control non lo proveremo qui perché non abbiamo una strada che ci permette di lanciare la moto in sicurezza e per lanciare non intendo ovviamente via proviamola un attimino anche in discesa ragazzi è divertentissima sta in strada veramente da dio parliamo anche dei freni che in discesa vengono stressati un pochino in più impianto frenante anteriori al top il posteriore lo sento un po' meno incisivo ma sappiamo che alla fine del posteriore serve principalmente per correggere le traiettorie non lo usiamo per fermare in maniera diciamo sostanziale la moto ci facciamo questo tornantino usciamo una ruota via di nuovo destra spollata il feeling è quello della bici se dovessi trovare una sua direttissima competitor vi direi monster 937 che essendo uscito dopo può risultare magari un pochino una scopiazzata perché perché dico questo perché il serbatoio e la posizione in sella mi ricorda tanto quella del monster o meglio è quella del monster che mi ricorda quella del duke perché il duke 790 è pressoché la stessa moto motore a parte io vi vorrei far vedere vorrei far vedere ragazzi quanto sta bene questa moto in strada seguita veramente da dio guardate qui come siamo piegati questo cambio elettronico funziona benissimo per un giovane sportiveggiante ragazzi questa moto secondo me è perfetta e alla fine ti permette di fare un po' tutto perché conosco gente anche che ci viaggia con i 790 e i 890 altro dato che può interessare questa moto anche stressandola consuma poco si riescono a tenere tranquillamente e dico tranquillamente i 25 km al litro come media di consumi ma potreste fare addirittura anche di più se andate a filo di gas quindi un motore ottimizzato in tutto e per tutto equilibrato ed è anche economica nella gestione se vogliamo dirlo si può dire che moto ragazzi che moto e signori siamo giunti al termine di questa splendida giornata a bordo di questa KTM Duke 890 dobbiamo portarla al boss ma prima di riportarla a lui diamo qualche conclusione una moto nel complesso equilibrata fa tutto alla perfezione questa volta la consiglierei forse anche a dei neopatentati a dei neofiti perché lei comunque in mappe stradali riesce a fornire ancora una gestibilità niente male a differenza di altre moto di pari categorie pari livello pari potenza che magari possono risultare un pochino più impegnative detto ciò è comunque una moto che volendo può diventare molto specialistica un difetto che ho trovato che se vogliamo chiamarlo difetto ma per me è un pregio la moto in città sulle buche diciamo risulta un pochino rigida è un pochino più improntata secondo me all'utilizzo sportivo nel complesso una moto che fa veramente bene tutto sospensioni al top, freni al top, motore che ve lo dico a fare e non vi dimenticate di visitare ninfiamotori.com per poter osservare sempre quali sono le motociclette in vendita iscrivetevi al canale, attivate la campanella perché no, magari andate a dare anche un'occhiata al mio canale da VR noi ci vediamo al prossimo inizio vlog, ciao!